Una sola parola, disgustosi, disgustosi, fate cagare, siete una roba inguardabile, non mi riesco neanche le parole dalla bocca per dire quanto fate cagare, quanto fate cagare, quanto fate cagare, è una bellissima partita, è una partita molto equilibrata, presso Regina, poi l'arbitro fiscato all'inizio, ma va incredibile, non siamo mai scesi in campo, tre minuti ci cagavamo addosso, primo cross in area, colpo di testa di Fabian che è alto così, un metro e settanta è alto, un metro e settanta, va bene, va bene, va bene, magari ci sta un cross in mezzo, un attimo calo di concentrazione, prendi gol, ci può stare, la partita è sempre aperto, 1-0, no, dopo 10 minuti Pappetti, che ha visto partire anche Menez in anticipo, l'ha lasciato passare, scavetto e Menez, è un giocatore che conosciamo, è fortissimo, quindi sì, con quelle occasioni lì davanti al partita, non te ne sbaglia quasi mai, gol, gol della regina, 2-0, morti, morti fino al 45esimo che Indoi ha provato a fare qualcosa, cioè ha provato, ma Indoi mamma mia, se si sveglia bene, gioca bene, se si sveglia male, fa cagare, è quello Indoi, Indoi è quello, non possiamo contare su un giocatore così discontinuo, è quello il problema, io non so cosa dire, cioè, quello che si salva oggi è Aie, ed è il più criticato, cioè io lo critico sempre, quindi figuratemi come sto messo a dire che Aie è quello che ha giocato meglio, non c'è niente da dire ragazzi, non c'è da dire, siete una vergogna, quei pochi che vengono a vedervi non vi meritano, perché oggi lo stadio era semi vuoto, ma è giusto così, non vi meritate neanche di avere una tifoseria così calda come Grescia, per come vi comportate i campi, per come vi fate incazzare perché non amate questa maglia, non sudate la maglia, io non sento parole, io sto zitto perché sennò impazzisco, mi lasciamo perdere, guardiamoci le spalle perché così non so se ci salviamo, non so, cominciamo a guardarci dietro le spalle perché la scuola per il play out, l'ultimo posto per il play out ha 15 punti, io stavo a 23 quindi fai che fai due o tre risultati negativi, quindi sei lì a lottare per non retrocedere, quindi guardiamoci le spalle, non ho più niente da dire, andate a cagare, fate schifo al cazzo.